Una visita a sorpresa nell'atelier in via Riviera di Chiaia. L'ex ciclista Claudio Chiapucci, detto il Diablo, ha incontrato lo stilista Ugo Cilento e ha ricevuto in omaggio la cravatta ufficiale del Giro d'Italia 2019 realizzata dalla Maison Napoletana. Chiapucci, professionista per 13 anni, ha vinto un'edizione della Milano Sanremo, tre tappe del Tour de France e una della Corsa Rosa. Il Giro, giunto all'edizione numero 102, partirà sabato 11 maggio da Bologna, ma non farà tappa al Sud. Parla un po' napoletano grazie alla cravatta di Cilento, ma come mai Chiapucci è da queste parti? Claudio Chiapucci, Ariano Irpino, che gara è? È un mediofondo, una distanza relativamente breve di un centinaio di chilometri, però chiamata mediofondo della primavera, ovviamente siamo in primavera. È l'occasione per me di essere testimonia in questo agrofondo e stare anche con tutti gli appassionati amatori che in questa zona magari mi vedono un po' meno, però pedalero con loro, al di là del risultato che non è così importante, ma è dare un'immagine un po' anche a quello che è sempre stato il mio mondo, il ciclismo. Come nasce l'idea della cravatta per il Giro d'Italia, grazie alla quale il Giro, che non arriva più in Campania, parla anche un po' napoletano? Sì, questo mi fa molto piacere, che comunque sia un'azienda napoletana storica come la mia aver fatto la cravatta ufficiale del Giro d'Italia. Chiaramente la cravatta è una sette pieghe come nostra tradizione, interamente fatta a mano, dove ci sono sia l'etichetta che il logo ufficiale del Giro d'Italia. Diciamo che l'idea nasce in comunione con l'organizzazione del Giro d'Italia e c'è stata la volontà di fare un prodotto che sia la massima espressione di qualità e eleganza italiana nel mondo. Ho avuto modo di valutare, visionare, toccare, avere spiegazioni di questa cravatta che quando la vedi sembra qualcosa così semplice, invece c'è dietro un lavoro non indifferente e poi è espressione proprio della qualità napoletana, non si sbaglia.